21 voti favorevoli e 11 contrari hanno decretato l'ok alle nuove tariffe per la Tari e Benevento. Il punto più caldo della seduta del Consiglio Comunale di oggi, oggetto di una lunga discussione. Questo nuovo metodo che individua quelli che sono i costi a cui le tariffe possono far riferimento sono individuate da un soggetto terzo che è lato rifiuti che deve validare questo piano. Nella validazione lato rifiuti ci aveva permesso di poter incrementare ulteriormente questo piano economico e fidanziaro. Noi ci siamo avversi della possibilità di mantenerci al di sotto, segno questo dell'amministrazione di andare incontro ai cittadini e quindi non solo alle attività produttive che escono da un momento davvero difficile. L'amministrazione ha inteso lasciare invariata quello che è sostanzialmente quello che già è stato pagato. Le tariffe restano sostanzialmente invariate ma se per la maggioranza si tratta di un traguardo l'opposizione lo reputa un fallimento e le accuse si concentrano sul settore rifiuti che, spiegano i consiglieri di minoranza, resta ingiustificabilmente fermo. Solo resta uguale l'importo. Diciamo che la platea delle utenze diminuisce perché la provincia di Benevento e il comune di Benevento perdono residenti negli ultimi cinque anni. C'è un problema che non si rinviene in questa programmazione una politica del riutilizzo, del riciclo, della valorizzazione del rifiuto.